Buonasera a Borna ragazzi e benvenuti in questo nuovo video E' appena finita la partita di Champions tra Rangers e Napoli Terminata con il risultato di 0 a 3 in favore del Napoli Madre di Dio, che vittoria! E' successo tutto negli ultimi 30 minuti Tutto negli ultimi 30 minuti Questa partita non era facile Dato che il Rangers, si sa, è una squadra storicamente ostica Che in casa è come se fosse un uovo del terzo mondo Dove i giocatori sono affamati, voglia di riparsa, voglia di sopravvivere Mi dà questa impressione, cioè di paragonare ai bambini dell'Africa Però il Napoli ha dimostrato altrettanto di avere cazzimma, di avere voglia Di essere preparato tatticamente, di voler vincere E lo ha dimostrato ampiamente Se fosse stato in Napoli, che ne so, di Gattuso o di Sarri Si sarebbe fatto intimorire Con Ancelotti avrebbe vinto ugualmente Ma questo Napoli invece è tutto un altro Napoli Spaletti mi sta sorprendendo in Champions Perché non mi sarebbe aspettato che ci tenesse particolarmente alla competizione Io credo che l'Europa League in Napoli non abbia fatto così bene Invece in Champions League Contro i miei pronostici, Spaletti sta dimostrando di volerci tenere a questa competizione E si vede da non solo dei risultati Ma dal modo in cui gioca, dall'intensità che trasmette sui giocatori Il Napoli mi è piaciuto tantissimo tatticamente Perché difensivamente Presta Era abbastanza alta Non si chiudeva totalmente in difesa E i difensori bene o male sono sempre abbastanza attenti e precisi I terzini un po' meno perché comunque Tavernier e Rekenter erano giocatori pericolosi In fase di spinta Infatti i due Renzi e Maroni non è che hanno sbagliato tanto in fase difensiva Ma in fase di impostazione Perché rischiavano sempre di perdere il pallone Perché erano incredibilmente pressati Meretta ha giocato molto bene Ha fatto una bella parata sul tiro Non mi ricordo di chi Di Di Harfield O di Baris Siccome mi ricordo Comunque il gioco nel Rangers ha fatto un tiro da centrocampo E Meretta ha fatto un paraduro super micidiale Poi il resto Meretta non è stato praticamente impegnato Perché i Rangers hanno tirato poco in porta O almeno hanno tirato poco Da costringere Meretta a fare una parata importante Kim e Raman hanno giocato molto bene Surtutto Kim Raman parte con la cazzata iniziata Ha buttato il pallone in calcio d'angolo Ha giocato benissimo anche lui Quindi do sette entrambi Mario di Lorenzo sei e mezzo Del centrocampo Anquista sempre straordinario Non a caso ha fatto l'assist per il terzo gol del Napoli Ma il resto ha fatto una super partita come sempre Ricopri i palloni Non perde mai il pallone Sai impostare Bravo anche negli inserimenti Cosa che lo scorso anno non li faceva mai Anguista Si sta dimostrando un gioco molto completo L'unico problema è che si rompe spesso Ma se non si rompe Anguista è un giocatore fenomenale Da top player secondo me Anche se esagererei un po' A definirlo così Loboteca ha giocato bene Molto bene Come al solito Ormai non mi aspetto Non mi sorprendo più A vedere Loboteca Anguista giocare così bene Perché ormai è nel loro DNA Giocare in questo modo Diciamo che il Napoli Mi è piaciuto tantissimo Sia a livello tattico Ma anche a livello di palleggio Infatti il Napoli Ha mantenuto tanto Possesso palla E non ha perso Tanti palloni Anzi L'ha saputa tenere la palla Il pro Anche con i passaggi di primo Il Napoli non la perdeva mai I posizioni dei giocatori Erano perso che perfette Il problema Che ho riscontrato I miei 50 minuti È stata la poca precisione In fase finalizzativa Sbagliava sempre L'ultimo passaggio Prima di portare al tiro Poi mancava anche Un po' di cinicità Ma È un problema Che si è registrato I miei 50 minuti Nella metà della partita Ma Non mi incazzo Per questo Perché abbiamo fatto Tre gol Abbiamo vinto Quindi la cinicità C'è stata Però quello che mi fa Incazzare È l'ultimo passaggio O alcune scelte Individuali Sono state pessime A livello concettuale Mario Rui Tende troppo A tenere la palla A perdere tempo Prima di passare il pallone Politano Tira troppo tardi Però Nessuno del Napoli Ha giocato male Anzi Tutti sopra il 6.5 Secondo me Elmas Non dovuto Perché non ha fatto niente Poi il resto Non ha giocato Tutti alla grande Secondo me Politano Ha giocato bene Ha fatto il gol Sul rigore Ma che è stato tolto Poi ha fatto il gol Di vantaggio sul rigore Calciandolo bene Politano ha giocato Una partita di grande sacrificio In fase offensiva Qualche tiro l'ha fatto Ma spesso ha sbagliato Ma Politano è stato bravo In particolare Per il sacrificio Che ha dato alla squadra Recuperando diversi palloni E che palloni Perché se non avesse Recuperato quei palloni Il Rangers Avrebbe segnato Con gli esterni Sulla fascia Quindi Chiavò anche Per Politano Quaracelia Non è stata La miglior partita L'ho 6 e mezzo Perché comunque Qualche Schizzo Qualche Sprazzo Ecco Sprazzo Di buon calcio Lo ha dimostrato Però Spesso È stato Chiuso Infatti Van Brokost Temeva molto La qualità Di Guaracelia Di Guaracelia E ha Diciamo Ha mandato I giocatori Del Rangers A marcarlo In modo molto chiuso Non pressandolo Alto Ma proprio Aspettandolo O magari Facendo il raddoppio Di conseguenza E ciò Ha limitato Moltissimo Guaracelia Che comunque Ha fatto vedere Le sue giocate Ma è stato Limitato E spesso Non ha tirato bene Zienischi Allora Molti tranno Un voto di merda Perché ha sbagliato Due rigori Diciamo che Dopo questi rigori Che ci Diano una lezione Perché Zienischi Non è un gran rigorista Deve migliorare Nel calcio di rigore Secondo me Dovrebbe fargli Qualcun altro Se c'è un Se c'è un rigorista Più bravo di lui Altrimenti Rimarrà Zienischi E imparerà Come si calcia Un rigore Perfettamente Comunque Zienischi Ha giocato bene Anche lui Ha dato È sempre quel giocatore Che passa bene Al compagno Sa fare scambi di prima Sa dribblare Zienischi Ha giocato bene Cioè ha provato Anche lui Facendo ottime cose L'unico Neos Ha ridurgo di sbagliati Però Ha giocato bene Se e mezzo Se lo merita Secondo me Simeone Ha giocato bene Simeone purtroppo È stato molto chiuso Perché Che la divisa Era abbastanza serrata Però Simeone Comunque Spesso si sacrificava Davano mani I compagni Poi Simeone Comunque un panchinato Non è che mi aspetto Che faccia la differenza Però Le sue partite Le ha fatte Le sue partite La sua partita L'ha fatta Da 6 e più 6 e mezzo Ci sta Ci sta Però La cosa che mi ha sorpreso Sono stati i cambi Cioè Due gol Su tre del Napoli Sono arrivati da cambi Raspatori Si sente Grande Bene E ha fatto i gol Del 2 a 0 Facendo un bello scambio Con Chi era Olivera Che ha fatto l'assist Incredibile Come Raspatori Si sente Grande Ha fatto già due gol In tre Due gol Nell'ultimo due partite Raspatori Infatti Con Lecce Giocò male Con Lecce Giocò molto male Con la Frentina Fece benino Però ha fatto Vedere grandi cose Con lo Spezia Ha giocato Bene Con la Lazio Ha segnato Il gol del 2 a 0 Contro il Rangers Adesso Quindi ha fatto Una bella partita Oppure Ndombele Ndombele Fece Fatto male Le partite In cui ha giocato Questa è stata La prima partita In cui Ndombele Ha fatto la differenza Ha fatto già Il suo primo gol Ma già prima del gol Ndombele Ha fatto vedere Di che passo è fatto Sbagliava pochi passaggi Sempre sul pallone Per tempi E per posizione Ha fatto un gol Ma se non matematica Ma quasi Che il Napoli Non arriverà ultimo Io credo Che se vince con l'Ajax La prossima partita Che si terrà Il primo ottobre Anzi no Il 4 ottobre Scusate Il Napoli Per me Avrà la certezza Di arrivare almeno A tre primi due Perché è difficile Che arrivi terzo Con nove punti Molto difficile Quindi il Napoli Farà almeno Un'altra vittoria Per stare più tranquilla Anche se secondo me 12 punti Devi fare almeno Beh avevo la certezza Matematica Però nove punti Già sono un passo In più Secondo me E niente Questo video Finisce qua Ci vediamo domenica Per il post partita Con il Milan E niente Ciao ragazzi